Ciao a tutti, sono Enrico, vengo dal nord dell'Italia, da Cuneo, ho 32 anni e sono fisioterapista. La mia storia, cosa mi ha portato qui? Diciamo che sono tanti anni che sto cercando un rimedio contro la caduta dei capelli, ho passato diverse cliniche, diverse procedure, tra cui il PRP, gel piastrinico, altri metodi di cura come minoxidil o addirittura finasteride in gel, purtroppo però i risultati sono stati molto scarsi e poco duraturi, ho iniziato a perderne un po' di più e poi ho dovuto cercare un rimedio. Il 2019 ho fatto PRP, delle iniezioni abbastanza dolorose, poco risultato e allora ho iniziato a cercare una clinica per il trapianto. In Italia ce ne sono diverse, però purtroppo a livello di esperienza, a livello anche di costo, non sono all'altezza ancora di quelle turche, dopo aver fatto anni di ricerca, sono due o tre anni, quindi dal 2018 ad adesso che sono arrivato qua. Ho visto diverse cliniche anche qua in Turchia, qua in Turchia ho conosciuto cliniche low cost, cliniche un po' più a prezzi elevati. Ero in Istanbul, mi ha colpito, mi ha colpito perché innanzitutto la professionalità che c'è stata fin da subito, ho visto le foto di risultati su Instagram e da lì poi ho avuto modo di contattare un italiano che si era fatto operare qua, che mi ha dato il contatto tramite, della persona con la quale è venuta in qua. Tramite Valentino appunto, questo ragazzo, mi ha indirizzato direttamente alla clinica, li ho chiamati e poi mi sono convinto di prenotare. Dopo vari mesi di sì lo faccio, no non lo faccio, sì lo faccio, sì ma come sarà dopo, tante indecisioni perché non è mai facile essere qua dove sono seduto adesso, sono anni, diciamo mesi di lavoro anche con me stesso perché comunque è una scelta non facile, è una scelta con la quale dopo devi capire cosa fare, devi motivarla, la gente che ti sta intorno, non tutti la comprendono. Però se questo vuol dire star meglio con me stesso e quindi con gli altri, sono felice di essere seduto qui dove sono seduto ora. Mi sono trovato molto bene con la clinica, come dicevo fin da subito, molto molto cordiali, diciamo un'accoglienza di lusso, l'intervento è stato non doloroso, sono state ore lunghe ma qualsiasi intervento di questo tipo lo è e quindi niente, io sono felice di essere qui e ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a questa cosa. Devo anche dire una cosa che in tutto questo, oltre alle persone che mi hanno indirizzato verso la clinica, c'è stata una persona in particolare che mi ha sostenuto e incoraggiato nella cosa e che non fosse grazie a lei forse io sarei ancora lì a pensare. La mia ragazza che è con me da 16 anni ormai, noi abbiamo io 32 e lei ne ha 30, sono molti anni che siamo insieme, diciamo che trovo in lei un buon punto d'appoggio soprattutto per le mie indecisioni, per le mie difficoltà, questa era una grande difficoltà. Per quanto riguarda invece l'intervento sono molto contento, se devo dare dei consigli alla gente a casa informatevi, è giusto, informatevi, guardate anche le cliniche in Italia, ci sono tante cliniche valide, io vi posso dire che qua se volete andare sul sicuro venite tranquilli perché è vero se uno guarda la parte economica potrebbe indirizzarsi inizialmente verso altre strutture, altre strutture che costano meno, posso dire quasi anche la metà, però vi dico questa è una cosa che rimane per sempre, è una cosa che fate per la vostra vita, spendiamo soldi per tante cavolate, per tante superficialità, questo è per il nostro benessere, per la nostra felicità e io sono disposto a spendere tutto perché sono i soldi che poi ci ritornano di più, quelle per la nostra felicità e devo dire che li vale tutti, il trattamento è stato come dicevo delete e lo consiglio, lo consiglio, non guardate il portafoglio, guardate il risultato, guardate quello che volete, quello che desiderate. Ciao sono Erika, sono la ragazza di Enrico Marino e siamo qui in Turchia di Istanbul e devo dire che ormai il peggio è passato perché ho accompagnato Enrico in questi anni durante la scelta e adesso posso dire che il percorso è in discesa perché lo vedo sereno, lo vedo tranquillo, era molto agitato negli scorsi giorni e l'ho accompagnato appunto per poterlo rendere più tranquillo e sono contenta nel vederlo adesso appunto felice, soprattutto felice del risultato, di come ci avete accolti, della professionalità e di tutto quello che è stato il contesto in tutto dal nostro arrivo al soggiorno, alla clinica, devo dire che non mi aspettavo, non ci aspettavamo un contesto così professionale, così curato, tutto nei minimi dettagli. Per quanto riguarda la scelta è stata una scelta lunga, ho accompagnato Enrico diciamo proprio per degli anni perché soprattutto grazie a dei blog in Italia che abbiamo, abbiamo potuto vedere l'esperienza di varie persone che sono state qui in Turchia e grazie a delle foto, grazie alla pagina su Instagram, abbiamo potuto confrontare il prima e il dopo di tantissimi lavori e proprio per questo motivo abbiamo scelto come clinica Air of Istanbul e devo dire che ad ora siamo veramente contentissimi di aver scelto Air of Istanbul perché non ci ha deluso in niente, siamo stati veramente soddisfatti in tutto e speriamo che nel dopo di riuscire ad essere comunque seguiti perché Enrico a volte ha bisogno di un po' di sostegno per quanto riguarda delle domande che può fare ma sono sicura che la clinica saprà rispondere a tutti i suoi dubbi. Grazie a tutti i suoi dubbi.